L'obiettivo è individuare esalazioni di metano e dei cosiddetti COV composti organici volatili tra i principali responsabili dell'effetto serra attraverso l'utilizzo del drone. La sperimentazione messa in campo da Art Abruzzo, Università di Bari, struttura del commissario straordinario per la bonifica delle discariche abusive ed Ispra, è partita da Vasto e dalla discarica di Vallone Maltempo, uno dei quattro siti individuati dai tecnici tra Abruzzo e Puglia per svolgere questo tipo di ricerca. L'altro in Abruzzo e la discarica di Casoni di Chieti, mentre in Puglia ci sono Lesina e Ascoli Satriano. Nel corso dei prossimi 12 mesi saranno confrontati i risultati ottenuti attraverso lo screening aereo e quelli determinati con i metodi indicati dall'attuale normativa. Se, come sperano i tecnici, i risultati delle due metodi che dovessero essere omogenei, si potrebbe determinare una netta velocizzazione dell'analisi dei siti inquinati e un campionamento mirato rispetto ai punti con maggiore inquinamento. In Abruzzo, rispetto alle 13 discariche abusive gestite dal 2017 dalla struttura commissariale guidata dal generale dei Carabinieri Giuseppe Vadalà, è rimasta da bonificare solo quella di Vallone Maltempo. Ma in tutta Italia, rispetto agli 81 siti affidati al commissario e oggetto di infrazione europea, ne sono stati sanati 51 e ne restano attualmente attivi 30. Un lavoro del quale ne stanno beneficiando l'ambiente e i cittadini dei territori interessati, ma non solo, anche le casse dell'erario. Infatti, dal 2014 ad oggi, per i 200 siti inquinati oggetto di infrazione europea, l'Italia ha dovuto pagare a Bruxelles oltre 282 milioni di euro. La multa annuale però si è ridotta dagli oltre 40 milioni di euro del 2014 ai poco più di 7 attuali.